Roberto Boselli, premiato Big Data e Analytics CRM Sono veramente contento e commosso, è stata per noi una bella esperienza che abbiamo fatto con Alterna e un percorso sull'analisi dei dati e la comprensione dei dati aziendali che credo in questo momento sia molto importante per le strategie di tutte le aziende compresa la nostra, facciamo prodotti di alta gamma e del lusso e la cosa forse più innovativa è stata quella di provare a portare dei dati dalla parte web e social all'interno della stessa piattaforma di analisi e dargli un significato incrociandolo con i dati aziendali